Ed ecco il mio cavallo vincente. La Morning Star. E va bene, te lo concedo. È davvero imponente. Il giocattolo di Vincent. E sarà mio. Non mi dispiacerebbe se mi desse una mano. Perché sei così tanto interessato a Vincent? Ha ucciso una persona cara. Io... Ti capisco. Che c'è? Vuoi dirmi che la vendetta non condurrà a nulla? Che ucciderlo non me la ridarà? Fa pure. Le ho sentite tutte. Niente prediche. Tuttavia... Vincent è davvero un osso duro. Del tipo che non si arrende. Potresti non uscirne viva. È un debito. Una vita per una vita. Uno di noi dovrà pagare. Puoi condurmi da Vincent? Se restiamo insieme sarà impossibile non incontrare quel bastardo. Però per prima cosa ci serve la nave. È un abatto. Non ci serve. Non ci serve. Non ci serve. Dimmi, il tuo piano è sempre stato Entrare in quel campo e rubare il dirigibile di Vincent Senza l'aiuto di nessuno Non proprio Lavoro con un altro gesto Mi ha fornito tutte le informazioni che mi servivano E poi ho incontrato te, no? Un fredone di tombe o il giocatore d'azzardo Direi più un fermo credente nella gentilezza del prossimo Avanti Forza Ascendenti, più avanti Aspetta, non posso farti passare L'accesso è proibito fino al nuovo ordine Forza Prendi in giro Cosa sono queste precauzioni? Sono stati segnalati dei quest, Arizona Il cancello resta chiuso finché non ricevo il via Ma questo è asciuto Ho un camion pieno di attrazzatura da scaricare Potrei lamentarti con me Sono come che avrò il giro Ah, questo è come me Sì 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 Stendo! 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 Guarda il lato positivo! Puoi respirare ancora! Stendo! 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 Grazie a tutti. Ti distriggi bene da questo... Muoviamoci. Cosa abbiamo qui? Il villaggio dove siamo diretti, hai detto di averci passato del tempo da bambina. È uno dei molti posti dove ho vissuto. Gli orfani imparano presto a non affezionarsi troppo ai luoghi o alle persone. Mi dispiace, è un peccato. Tranquillo. Sembrava una storia strappalacrime. Ma da queste parti è la regola, non l'eccezione. Gli oggetti di rilevanza storica devono essere inventariati e consegnati al caposquadra prima della partenza. Ti ricorda che è severamente vietato tenere oggetti per sé. Per qualsiasi domanda, potete usare il codice di condotto. Perdonami. Vedi quell'ormeggio? Quelli tengono il dirigibile al suolo. Dobbiamo scioglierli. Sembra facile. Non sai quante volte ho sentito queste parole? Sii pronta e stai in guardia. Attenzione, a tutto il personale dello scavo. Si ricorda di registrare gli oggetti personali con il proprio supervisore. Oh, merda. Questo è un ordine. Mela Savic. È una tua amica? È un incubo serbo con le gambe. Se la vedi, stalle alla larga. Dammi retta. In qualche modo mi somiglia. Sciolte le cime, la nave si alzerà. Uno di noi deve salire e prenderne il controllo. Faccio io. Non vorrei che te ne andassi lasciandomi in un vespaio. Senza offesa. Che bella la fiducia. La sorpresa è la nostra arma migliore. Propongo di dividerci. E creare due fronti. Mi leggi nel pensiero. Io mi occupo degli ormeggi più lontani. Tu degli altri due da quella parte. Diamoci sotto il dirigibile quando avrai finito. attenzione, attenzione. qualsiasi persona non autorizzata. Muova esigente. So quanto siano duri questi tempi. Mi chiamo più vicino fermai al raggiungimento dei nostri obiettivi. È giunta l'ora di immergersi in profondità. L'ascensione è vicina. Mio. Mio. Il'ascensione è vicino. Grazie a tutti. 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 Chiedo di vedere. Grazie a tutti. Tu hai... Tu hai... Tu hai... Tu hai... Non pensavo di... Tu hai... Tu hai... Pensavo che... Pensavo che fossi... Che è successo? No... 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 Non puoi... 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 non puoi continuare non puoi continuare non puoi continuare non funzionerà non puoi continuare hai paura non puoi continuare non puoi continuare tutto qui quello che sai fa non puoi continuare non puoi continuare avrei voluto catturarti viva non mi lasci scelta e cosa credi di fare con quella avrete anche la morning star ma per voi non è nient'altro che una vittoria di Pirlo il mio diario il mio diario e la ragazza troverò ciò che mi serve in queste pagine Grazie a tutti.